Sempre più cupo il futuro di Flora Miata. Venerdì i giudici del Tribunale fallimentare di Siena si riuniranno in Camera di Consiglio per decidere sul concordato preventivo, ovvero l'accordo con i creditori per evitare il fallimento, e sulla richiesta di fallimento avanzata dal curatore di Flora Miata SPA. Ieri in Regione si è tenuto un incontro con l'assessore regionale dell'attività produttiva Gianfranco Simoncini, richiesto dalle istituzioni locali e dalle organizzazioni sindacali. L'assessore regionale ha osservato che prima di prendere qualsiasi azione occorre attendere la decisione del giudice e che qualunque essa sia c'è da augurarsi che si tenga comunque conto della necessità di permettere a Flora Miata di continuare a produrre e a commercializzare i suoi prodotti. Simoncini si è detto comunque disponibile a verificare la percorribilità di tutte le strade, dalla richiesta di costituzione di un tavolo nazionale all'incontro con possibili altri investitori che hanno mostrato il loro interesse verso l'azienda, fino a una nuova convocazione delle parti a Firenze. Durissime le parole dell'amministratore delegato di Flora Miata, Fabio Montanari. Il mio giudizio è che non è casuale quello che sta succedendo. C'è sicuramente qualcuno che sta orchestrando qualche cosa. A tal proposito io ho presentato non uno ma ben due esposti alla magistratura perché sono cose che reputo molto gravi. Uno tante volte alla televisione vede dei fatti e dice ma succedono queste cose in Italia? Dice sembra impossibile. A me sta succedendo qualcosa che sembra impossibile però sta succedendo a me e a questa azienda perché le casualità, come dice l'avvocato, ci sono ma quando poi le casualità sono tante e troppe vuol dire che sotto c'è qualche cosa. Quindi io non posso e non voglio giudicare nessuno però reputo che da buon cittadino quando uno ha dei dubbi, anche se poi farlo può diventare pericoloso, questi dubbi vanno espressi e vanno segnalati a chi ha l'incarico in questo paese di fare delle indagini. Io devo dire che in questi 11 anni da quando cominciò la vicenda della guardia di finanza, di ispezione guardia di finanza di tanti anni fa, tutte le volte che sono andato in tribunale, diciamo, ho avuto a che fare con la magistratura, la magistratura tutte le volte mi ha dato ragione. Noi in questi 11 anni abbiamo vinto tutte le cause nelle quali ci siamo trovate e sono veramente tante e devo dire che mentre da un lato abbiamo avuto ragione su tutto, nessuno ci ha mai rimborsato i costi sostenuti, nessuno ci ha mai rimborsato i danni sostenuti e abbiamo perso, bruciato tanti posti di lavoro, abbiamo bruciato risorse economiche, abbiamo bruciato posti di lavoro, abbiamo chiuso intere aziende, ci sono aziende nel sud Italia che erano partecipate e che sono state chiuse, altre aziende in Toscana e tanti progetti di sviluppo che abbiamo dovuto abortire. Io credo che questo qui è un paese che se non riesce a cambiare in queste maglie cardine del suo Stato farà fatica a ridecollare, è un paese che va rifondato.